Sì, qui. Avvicinati se non sei un vigliacco. Che cosa ha questo? Come vuoi che li trovi 20 franchi alla settimana? E che ne so, farai come tutti gli altri. Siamo una repubblica, quindi siamo tutti uguali. Io so una cosa sola, uguaglianza, fratellanza. Tu non sai proprio niente, perché ci sono quelli ricchi e quelli che non hanno neanche i soldi per mangiare. È vero, credo che neanche io potrò pagare. Io neppure. Se è così, niente più uguaglianza è fratellanza. Se c'è chi paga e chi no, non è più una repubblica, ma una monarchia. E io, il re, il ghigliottino. Anche noi li digliottiniamo. L'uguaglianza è facile a dirsi, ma... L'uguaglianza è quando nessuno deve più pagare. Non è vero, è quando tutti pagano uguale. E i poveri allora? Tu offendi i poveri, Roberto. E non è repubblicano questo.